Vi dirò la verità, mi ero scordato che sensazione si provasse a vincere una partita e a vincerla bene, meritatamente, nettamente. Per carità, questo 3-0 della Juventus al Bologna non cambia la sostanza delle cose, perché, ripeto, la Juve vince bene, vince nettamente, vince meritatamente, ma sfruttando più le lacune, le debolezze, le pause di un Bologna che praticamente non entra mai in partita. Però se non altro, rispetto alle gare precedenti, la Juventus ha il merito di partire forte e tenere quel ritmo anche dopo l'1-0. Non si abbassa troppo, non rinuncia a cercare il secondo gol e infatti poi lo trova e ne trova addirittura un terzo. Potrebbe pure trovarne un quarto se Vlaovic non sbagliasse solo davanti a Skorupski. Però comunque un Vlaovic che torna il gol, quindi 7 per lui e che serve l'assist per il gol dell'1-0 a Kostic. Molto positivo anche lui, 7. 7 e mezzo invece all'ognipresente Milik, che recupera il pallone da cui poi parte l'azione appunto dell'1-0, rifinita da Vlaovic per Kostic. E soprattutto segna uno straordinario terzo gol con una sassata di sinistro sotto la traversa che non lascia scampo al portiere del Bologna. Quindi 7 e mezzo per Milik, molto bene anche Locatelli, 6 e mezzo. Rabiot, pensate un po', bene anche lui, 6 e mezzo. Meno bene Aleksandro, 5 e mezzo. Ma vabbè questa non è una novità, anzi rispetto al solito. E' grasso che cola, 6 e mezzo a Bremer che praticamente non concede nulla ad Arnautovic, molto nervoso, molto frustrato. Insomma, adesso la Juventus si è attesa da altre sfide, ben più probanti, perché dovrà andare a giocare in casa del Milan. E lì dovrà dimostrare se può davvero dire la sua per lo scudetto, se può raddrizzare in qualche modo questa stagione nata male, anzi malissimo. Però bisognerà fare dei passi avanti, non i soliti passi indietro. Staremo a vedere. Staremo a vedere.